Quest'anno Effetto Domino guarda al futuro, guardiamo al 2020 e parliamo di un tema molto preciso, la longevità. Pensate che i nostri bisnonni avevano una vita media di 35 anni, noi invece nel 2020 potremmo sperare di vivere ben 85 anni, un tempo enorme e poi un italiano su tre avrà nel 2020 più di 60 anni. Eppure, al di là dei numeri, non saremo un paese di vecchi. Vi spiegheremo perché, assieme a molti ospiti illustri, primo fra tutti Umberto Veronesi, dopo la sigla. Buonasera, ben ritrovati, siamo a una nuova edizione di Effetto Domino, Effetto Domino 2020. Ho voluto stasera in studio un pubblico di tutti i giovani, di tutti i 35 anni, perché parleremo dell'allungamento della loro vita. Tutte le persone che sono qui rischiano di arrivare a 100 anni ed oltre. Siamo qui con il professor Domenico De Masi, che è il nostro sociologo dell'ottimismo creativo, così l'abbiamo definito. Pensate che il professor De Masi, in Cina e in Brasile, due paesi che sono grandi potenze del presente e del futuro, è dentro una commissione che si sta occupando di immaginare e di pensare a come sarà il nostro mondo nel 2020, cioè fra dieci anni. E questo perché? Perché il futuro può darci delle opportunità straordinarie, a patto che riusciamo a individuarlo, a riconoscerlo e a governarlo, se no può addirittura essere un grande rischio. Insomma, professor De Masi, possiamo un po' dire che il futuro è come una tigre o la cavalchi o ti sbrana? Certo, il problema grosso della società post-industriale, quella in cui viviamo, è progettare il nostro futuro. Se non lo progettiamo noi, ce lo progettano altri e noi ci troviamo in un piccolo cerco in cui non ci sono scelte. Ma per progettare il futuro bisogna conoscerlo, cercare di capire com'è fatto. Ecco, ma volevo fare un altro ragionamento con lei. Dieci anni, no? Sembrano un lasso di tempo molto breve, eppure in dieci anni può cambiare tantissimo il mondo in cui viviamo. Per esempio, dieci anni fa tante cose che oggi diamo per scontate non esistevano, è così? Beh, certo, prima si è detto i nostri bisnonni. Ai tempi dei nostri bisnonni dieci anni non erano molti. Oggi dieci anni sono tanti. Dieci anni fa non c'era l'iPhone, non c'era l'iPod, non c'era l'iPad, non c'era la guerra in Afghanistan, non c'era la guerra in Iraq, non c'era l'euro. Non c'era Facebook, il grande mezzo di comunicazione sociale. Non c'era Wikipedia, che quest'anno ha fatto dieci anni. Quindi dieci anni oggi sono un tempo enorme, e se uno non coglie a volo le opportunità che ci offre un decennio, veramente rischia di restare su politica. Perché il mondo corre in maniera accelerata ultimamente. Ecco, una delle accelerazioni più forti che però hanno avuto un impatto sulla nostra vita è quella dell'allungamento della vita media. La longevità. La longevità è una grande rivoluzione che in qualche modo è sbarcata nel nostro orizzonte e cambia le prospettive. Cioè avremmo davanti un lastro di tempo molto più lungo, che dobbiamo occupare, organizzare. Ma la domanda che io vorrei farle è questa, quella che facevo prima della sigla. Ma questo cosa vorrà dire? Che per esempio l'Italia, che è uno dei paesi più longevi, assieme al Giappone per l'appunto, è destinata a diventare un paese per vecchi, secondo lei? No, assolutamente potremmo dire che è destinato a diventare un paese per nuovi giovani, ancora più esperti dei giovani reali. Diversamente giovani. Diversamente giovani, ma non nel senso che di solito si tende a dire. C'è da dire che questo allungamento della vita è stato talmente veloce, venendo noi da secoli in cui la vita media è rimasta della stessa longevità, è stato talmente veloce che per alcuni sembra addirittura un danno. Quindi lei dice prendiamola una grande opportunità e proviamo a gestire. È una grande opportunità. Certo, naturalmente possiamo non prepararci, allora come tutte le grandi opportunità le perdiamo. Professore, noi abbiamo tentato un esercizio, e cioè quello di immaginare come vivranno, come saranno, cosa diranno questi vecchi cosiddetti, che però dovremmo anche cambiare il nome, nel futuro. E l'abbiamo immaginato attraverso una lettera che ci arriva dritta dritta dal 2020. Sentiamola assieme. Che bello. 4 marzo 2020, martedì. Mi chiamo Marco, ho 70 anni. Sono uno dei 14 milioni di italiani oltre i 65. Un italiano su quattro. Dieci anni fa mi chiamavate vecchio. E io oggi vorrei farvi riflettere proprio su questo. Perché? Beh, ve lo spiego dopo. Queste sono le foto che ho postato sul mio profilo. Ecco mio figlio grande e mia nuora. Questo invece è il mio nipotino. È un bambino vivace. Ma mio figlio e mia nuora sono molto presi dal lavoro e lui in casa si sentiva un po' solo. Vedete, in Italia ormai non si fanno quasi più figli. Appena uno per famiglia. E allora mia moglie e io abbiamo pensato perché non rimetterci in gioco? Oggi nel 2020 la fecondazione assistita è alla portata di tutti. E così mia moglie ha dato alla luce il piccolo Andrea. Aveva appena compiuto 64 anni. Eccoli, mio figlio piccolo e il mio nipotino. Zio e nipote. Giocano, si divertono. Crescono insieme. L'anno scorso ho avuto un problema che mi ha assorbito per un po'. Un tumore. Ma grazie all'attacca spirale sono riuscito a fermarlo in tempo. D'altra parte oggi il cancro si cura, come la IDS. Comunque quel periodo difficile mi ha fatto ritrovare la forza e il coraggio per realizzare l'idea che accarezzavo da tempo. Aprire un'attività impropria. Ecco la foto dell'inaugurazione. Siamo tantissimi noi neoimprenditori over 65. Anche mia moglie, che era oncologa, ha ricominciato a lavorare. Ora dirige un istituto di nanomedicina. Le serate poi le passiamo proprio qui davanti al computer a chiacchierare con amici e parenti. Proprio come sto facendo con voi. In rete facciamo la spesa, prenotiamo le vacanze, giochiamo ai videogames. Ma soprattutto ci teniamo aggiornati. Ecco, questo sono io. Vecchio? Mi chiamavate così dieci anni fa. Forse è ora di trovare una definizione nuova per la mia età. Forse dovreste cominciare a capire come cambia la vita nel momento in cui il crepuscolo si allunga e il tramonto è sempre più lontano. Io sono Marco. E a 70 anni sono padre, sono nonno, sono marito, sono pensionato, sono imprenditore, sono consumatore. Sono un uomo. Questo mi volevo dire. Ecco, provare a capire come cambia la vita quando la nostra prospettiva di vita si allunga. Stasera lo faremo con un ospite eccezionale, con un ospite che in qualche modo racchiude a sé molte delle cose di cui parleremo stasera. Una grande esperienza di uomo e di medico. è con noi Umberto Veronesi. Grazie di essere venuto. Professor Veronesi, io non mi azzardo a fare una presentazione di lei perché tutti la conoscono. Voglio dire però qualche cosina. Ha 85 anni, portati meravigliosamente. Ha una vita intensissima. cito due cose che mi hanno veramente colpito. 12 lauree onoris causa e 780 pubblicazioni scientifiche. E poi una vita, un ritmo di vita frenetico. Grande medico, ancora in sala operatoria, all'alba opera, mille impegni istituzionali, politici. Insomma, una vita a mille. Questo è il segreto della longevità, secondo lei? Ma io penso che la nostra età sia l'età del nostro cervello. E quindi il nostro sforzo deve essere quello di mantenerlo molto attivo. E per mantenerlo attivo bisogna essere attivi noi, bisogna essere vivi. Bisogna partecipare all'attività, alla vita della società. E quindi questo è il mio messaggio primo. Ecco, ma invece un messaggio un po' più, tra virgolette, scientifico, volevo chiederle. Ci spiega quali sono i motivi di questo allungamento della vita? Ci sono dei motivi che si possono definire scientificamente? Del perché la vita si è allungata? Beh, si è allungata innanzitutto perché abbiamo eliminato una quantità di cause di morte. Le vaccinazioni del secolo scorso hanno eliminato il colera, il vaiolo, la difterite, la poliomielite. E poi gli antibiotici nell'ultimo mezzo secolo hanno eliminato molte malattie infettive. Il controllo dell'alimentazione ha tolto tutte le malattie intestinali che erano comunissime. Oggi non si muore più di malattie intestinali. Quindi ci sono delle ragioni. Abbiamo ancora degli ostacoli, abbiamo ancora i tumori da sistemare, ma ce la faremo anche in quella direzione. È una battaglia che lei porta avanti e sulla quale però conta di arrivare a una soluzione positiva, quella contro il cancro. Ma stiamo migliorando molto. Ecco, ma sul cervello, lei spesso dice questo concetto, io lo sento più volte, che lei dice che in qualche modo il nostro cervello si nutre di conoscenza e quindi di attività. È un muscolo, no? Bisogna tenere un esercizio. Come si fa? C'è una varietà di stimoli in cui il cervello può essere sottoposto. I primi tra i ragazzini è proprio questo. Internet, i computer, il playstation sono molto utili per fare sviluppare. Io sono convinto che anche il miglioramento dello stato fisico delle persone, oggi siamo alti 1,75 rispetto agli 1,60 di 50 anni fa, come media, perché l'attività cerebrale molto intensa si ripercuote sull'ipofisi. L'ipofisi è un po' il direttore d'orchestra di tutte le nostre funzioni. Tutti i nostri ghiandole endocrine rispondono alle ipofisi. È una forte attività cerebrale, stimola molto anche l'ipofisi, che è proprio collocata accanto al cervello. Professore, ma quali sono le scoperte destinate a cambiarci la vita che noi ancora non vediamo ma che sono già nei laboratori, che stanno marciando? Beh, sono due grandi scoperte. Uno è quello che riguarda il DNA. Il DNA è noi stessi, è il codice della nostra vita e quindi il DNA contiene già tutti gli elementi che riguardano il nostro corpo, il nostro cervello. Ci dirà quanto viviamo, che malattie potremmo avere. C'è la medicina predittiva, proprio interrogando il DNA potremo capire fino a un certo punto quale sarà il nostro futuro anche di patologia. Tanta gente ha paura addirittura di questa cosa del DNA, come se in qualche modo potessimo manipolare la natura. Beh, questo è anche comprensibile. Anch'io ho degli timori certe volte. Manipolare la natura non ci disturba molto, ma manipolare l'uomo no, non possiamo. Per il momento è anche un rischio da considerare. E il secondo sono le nanotecnologie, cioè riuscire a fare o costruire intorno a noi un mondo per i nostri servizi e per le nostre attività che è basato su una dimensione minima. Tecnologie minuscole, piccolissime. Ecco, un nanometro è un milionesimo di millimetro. Ecco, e si lavora su quelle dimensioni lì, si fa di tutto. È tutto miniaturizzato e abbiamo delle prospettive gigantesche, anche a livello di medicina, di farmaci. Parliamo delle cellule staminali. Le cellule staminali si è scoperto che hanno, diciamo, delle ricadute enormi su quello che può essere la cura di alcune malattie. Però molte persone comunque continuano ad avere dei timori, appunto. Il timore è in qualche modo il progresso porti con sé dei vantaggi, ma anche dei rischi terribili e inimmaginabili. Lei è sempre stato un uomo che ha detto sia alla scienza bisogna andare avanti, bisogna anche assumersi dei rischi pur di arrivare. Lo pensa sempre? Io lo penso sempre, le cellule staminali non presentano grandi rischi. Il grande tema delle cellule staminali è dove prenderle, l'origine, il rifornimento, la sorgente delle cellule staminali che è esposto al grande dibattito. Ma rischi non ne presentano. Ma nella cultura generale scientifica sappiamo che il rischio fa parte della nostra vita. È impensabile una vita senza rischi. Allora, se dobbiamo correre dei rischi, vediamo di collocare questi rischi in una strada, in un percorso che migliori l'umanità. In questo momento si parla moltissimo, dopo l'apocalisse giapponese, dei rischi del nucleare. La paura è riemersa violentissimamente. Lei si sente ancora tranquillo su quel fronte? Dunque, io sono molto razionale e poco incline alle reazioni emotive per la mia professione. Faccio il chirurgo e non posso permettermi di emozionarmi troppo. E quindi penso che gran parte della reazione sia proprio così emotiva, non molto legata al pensiero razionale. Tuttavia, io credo che sia giusto, io mi occupo tra l'altro di sicurezza nucleare. Diciamo, lei preside l'Agenzia per il nucleare in Italia, che dovrebbe proprio essere l'organismo che certifica la sicurezza dei nuovi impianti che il nostro paese si appresta a costruire. Ma questa catastrofe giapponesi ci interessa moltissimo per capire qual è stata la causa, o meglio, qual è stato il meccanismo. Quindi c'è una lezione da tarre dal Giappone, secondo lei? Noi dobbiamo fare tesoro di tutte queste sfortunate vicende, perché questo è il progresso. Il progresso si vale sempre di più degli aspetti sfavorevoli del progresso stesso. Se oggi andiamo in aereo ci sentiamo abbastanza sicuri, devo dire, ma in questi cento anni di vita dell'aviazione quanti guai abbiamo avuto? Quanti aerei sono caduti? Ma se cadono aereo non è che non andiamo più in aeroplano. Ma il fatto che tutti i paesi europei in qualche modo facciano un passo indietro sul fronte del nucleare non sarà anche per l'Italia un indicatore importante? Beh, certo, anche noi stiamo attenti, noi abbiamo chiesto un attimo di riflessione. Questo è giusto, perché l'incendente giapponese è molto grave, molto grave, molto importante, e non dobbiamo sottovalutarlo, ne dobbiamo dire che va bene, pazienza. Dobbiamo fare tesoro e forse riconsiderare la lunghezza della vita di un reattore o mettere delle sicurezze in più, cioè prevedere anche l'imprevedibile. Torniamo al nostro tema che invece è la longevità. Woody Allen con una battuta geniale diceva Ho smesso di fumare, vivrò una settimana di più e in quella settimana pioverà di rotto. Ecco, serve secondo lei una nuova cultura per in qualche modo affrontare questo panorama che non ci aspettavamo, cioè questi 30 anni in più di vita, cosa farne, come gestirli? Beh, c'è modo di gestirli bene, non c'è ragione di rammaricarsi di vivere più a lungo. Un bambino che nasce adesso, per esempio, a fare dei calcoli, vivrà 100 anni, una femmina 102 anni, perché questo era, come si può dire, era l'aspettativa. Io quando sono nato avevo una vita attesa di 55 anni e invece, come vedete, sono arrivato molto più in là. Dobbiamo quindi progettare già il futuro in maniera, con dimensioni molto diverse. Senta, quando si rivivò Berlusconi all'inizio, quando fu eletto di Rissec, vivrò 120 anni, lui uno di quelli che l'ha sempre detto, fu seppellito da una gigantesca risata. Oggi, in qualche modo, lui sembra un po' l'emblema di questa nuova razza, di queste persone, tra virgolette, anziane, che invece continuano in un'eterna giovinezza. È così, secondo lei? Ma per me Berlusconi, per esempio, dalla mia postazione, è ancora un ragazzino, ecco. E quindi anch'io penso che dobbiamo guardare molto in là. Ce lo terremo solo una ventina d'anni, dice lei. Senta, la scienza ha prima allungato la vita, adesso ha anche allungato la possibilità di far sesso in quel pezzo di vita, che era una cosa impensabile un tempo. Fino a che punto questa domanda è una conquista e fino a che punto invece rischia di essere addirittura qualcosa che in qualche modo distrugge anche i rapporti di coppia, i matrimoni, cioè questa possibilità di spostare in avanti anche il desiderio, l'attività sessuale. L'attività sessuale è una cosa sacrosanta, il sesso fa bene in genere, e poi il sesso è un atto d'amore, non è un peccato fare sesso. Sì, ma quando lo si fa con la chimica, lo rischia di diventare una cosa un po' a sé. Non importa come uno la faccia, certo, questo facilita la nostra attività e ci toglie di mezzo molte impotenze psicologiche. Quindi è una grande conquista, a mio parere, perché facilita il rapporto tra le persone. Veniamo a un tema invece che le sta molto a cuore e su cui ha sempre fatto delle dichiarazioni molto forti, e cioè il rapporto con la morte. Lei ha combattuto da medico tutta la vita la morte. Io ho letto delle sue bellissime interviste in cui lei racconta anche l'ansia, il tumulto interiore di dover andare a dire a un paziente quando non c'è più niente da fare, quando invece la felicità di poter dare una buona notizia. Come l'ha in qualche modo elaborato questo rapporto con la morte nel corso della sua vita? Questa è una domanda molto importante e mi fa piacere che me l'abbia fatta. Innanzitutto io ho visto la morte da vicino perché ho fatto un militare e sono saltato su una mina e sono uno degli unici dieci militari della tutta la guerra che è rimasto vivo. e quindi questo ha cambiato la mia filosofia nei riguardi della vita e della morte. Mi sono sentito privilegiato incomprensibilmente da questa vicenda e ho pensato da quel momento che la mia vita era tutta regalata perché statisticamente dovevo morire. E mi ha fatto buon uso. E quindi questo mi ha già dato una posizione mentale più positiva, ottimistica. La morte è una necessità, la morte fa parte del nostro ciclo biologico, è importante come la nascita, non dobbiamo demonizzarla, non dobbiamo rimuoverla, dobbiamo parlare serenamente. La morte è inevitabile, è dolorosa per certi aspetti, ma è un dovere, è un dovere morire per lasciare lo spazio a chi viene dopo di noi. Chi viene dopo di noi sarà la nuova generazione, ma che avrà il nostro DNA. Io ho sette figli, ho quindici nipoti e sono me stesso, il mio futuro. Io rivedo me stesso nei miei nipoti e so che hanno già una parte di me. Senta, professore, il Parlamento si sta discutendo una legge molto complicata, quella sul fine vita. Lei è tra i pochi ad aver già scritto il testamento biologico. Io vorrei chiederle due cose. Primo, perché è giusto poterlo fare? Secondo, se posso, cosa contiene un testamento biologico? Guardi, noi abbiamo una legge che ci permette, anzi ci obbliga a decidere se accettare o rifiutare qualsiasi trattamento. È un rapporto nuovo della medicina. E se io non voglio che mi taglino la gamba, nessun chirurgo me la può tagliare. Allora, se io non voglio rimanere in quella condizione dolorosa che si chiama coma permanente irreversibile o stato vegetativo permanente, io non ci voglio stare, ma siccome non potrò, essendo in coma, dirlo a voce, lo scrivo in anticipo. Tutto qua. Non si capisce perché uno non debba farlo e non possa farlo. Noi ci eravamo illusi, e questo è stato il nostro errore, di aver proposto una legge per tutelare questo diritto. E invece ne è uscita una legge al Senato che lo cancella questo. La legge presente, che è in discussione adesso alla Camera, impedisce di fare il testamento biologico, che rifiuti la vita per il vegetativo permanente. Cioè, ciascuno, se va in coma, è obbligato a stare in quella condizione, curato fino anche per 50 anni, seguito per 50 anni, che è una assurdità. Va bene, professore, la ringrazio molto. Le chiederei di rimanere con noi, la pregherei poi di accomodarsi con noi assieme a professore De Masi, e adesso vorrei assieme a lei guardare una ricostruzione, una fotografia di questo nostro paese, che è un paese in cui i cosiddetti vecchi sono ancora saldamente in sella e non mollano il potere di un millimetro. Vediamolo assieme. A conti fatti, sembra che in Italia, per impugnare lo scettro del potere e del successo, bisogna essere nati sotto le bombe della Seconda Guerra Mondiale. Così è in politica. Basta pensare all'età del nostro premier al momento della prima elezione, 58 anni, contro i 47 dell'americano Obama e i 44 dell'inglese Cameron e dello spagnolo Zappatero. Ma anche l'università, la cultura e lo spettacolo sono guidati da splendidi ottantenni come Eugenio Scalfari, Carlo Fruttero, Ottavio Missoni, Franco Zeffirelli, Umberto Eco, Gianluigi Rondi, Franca Valeri. E i giovani stanno a guardare. Ora immaginiamo che i giovani d'Italia si stanchino di attendere un ricambio generazionale che non arriva mai. Immaginiamo che insorgano. Un assalto alla bastiglia generazionale. Una guerra dei giovani agli anziani. Eccole le truppe dei trentenni. Cresciuti nel benessere economico e figli della televisione. Freschi di laurea, sicuri e agguerriti, strappano posizioni strategiche ai nemici, elaborano strategie di accerchiamento, espugnano le loro roccaforti, si infiltrano tra le loro fila, li costringono alla ritirata. Ed ecco l'esercito degli anziani. Forgiati dalla guerra in tenera età, temprati dalla fame del dopoguerra e dallo sforzo della ricostruzione, loro hanno firmato il miracolo economico, sconfitto malattie, inventato l'Europa unita. Mantengono le posizioni senza indietreggiare. Ancora oggi continuano a costruire città, combattere crisi finanziarie, calcare le scene, scrutare nuovi orizzonti. In più, hanno il vantaggio di giocare in casa, perché il campo di battaglia, l'Italia di oggi, l'hanno spianato loro. La partita non è ancora finita. Quale sarà l'arma segreta degli anziani? Eccoci. Io sono qui con uno di questi superuomini. Una storia, una storia che sembra una favola, che comincia nel dopoguerra italiana, un dopoguerra in cui l'Italia aveva poco, ma cresceva tanto, con tanto entusiasmo. E questo signore, che è qui di fronte a me, decide di scommettere su due cose abbastanza controcorrente, direi. Una è la tecnologia, l'innovazione tecnologica, su cui lei ha scommesso fortemente fin dall'inizio. E l'altro, la proprio allungamento della vita, cioè questo nuovo settore, che erano gli anziani. Davanti a me c'è Gianpietro Beghelli, un volto poco noto, ma un nome che tutti gli italiani conoscono. Benvenuto. Grazie. Come è venuto a lei in mente di pensare che poteva scommettere sulla vecchiaia, sugli anziani, su questo mondo che cresceva? Ma vede, io mi sono reso conto che gli anziani vivono bene a casa loro, più che nelle case di riposo, no? Me ne sono reso conto perché vivono in un piccolo paese, quindi avevo un modo di conoscere tante persone, personalmente, che andavo a trovare, e quindi vedevo proprio che stavano bene nella loro casa. Però si sentivano soli, perché magari non avevano più il marito o la moglie, quindi erano rimasti soli. Non volevano vivere con i figli perché temevano di disturbarli, perché l'anziano ha anche questo problema. E allora, parlando con i miei tecnici, abbiamo pensato di fare un prodotto che potesse permettere agli anziani di vivere soli, avendo comunque questo pulsante che il telesolarità offre, che permette immediatamente di metterci in conto. Allora, raccontiamolo un po'. Ci sono diversi tipi di telesalua vita, uno col video e l'altro senza. Quello col video permette di vedere comunque dalla persona quando l'anziano chiama sulla televisione del figlio, ad esempio, si vede l'anziano e si vede in che stato si trova e perché ha chiamato. Sai cosa che mi ha molto colpito di questa sua invenzione? Quando lei racconta che gli anziani, dopo un po' che hanno a casa queste piccole telecamere, si rianimano, cominciano a vestirsi bene, a pettinarsi, perché il fatto di essere visti in qualche modo li rimette in gioco, è così? Assolutamente, sì. Loro di solito un anziano si lascia un po' andare, quando è solo così. Invece quando sa che in qualche modo può essere visto, si pettina, si mette in ordine, eccetera. Lei ha detto che il sistema pubblico all'inizio, questo suo sistema non l'ha capito. Cioè in realtà poteva essere un sistema che deve risparmiare un sacco di soldi allo Stato, perché meno spizi, meno lungo degenza in ospedale. Invece quando lei andava a proporlo in giro alle Asle? Noi le vendiamo molto ai privati. Io so solo che comunque potrebbe il pubblico risparmiare tanti soldi, perché ad esempio un caso, ho cito un caso, una persona di queste che aveva la febbre dice se non avessi avuto il teleservo alla vita sarei andata in ospedale, perché non me l'ha sentita di stare in casa sola. Invece così, sapendo che se ho bisogno immediatamente interviene qualcuno, sono rimasto a casa. Una degenza in ospedale sappiamo quanto costa e sappiamo i problemi che ci sono. E poi appunto col fatto che la popolazione anziana per fortuna è in aumento, e io ormai sono fra quelli, perché con 66 anni sono classificato anziano, anche se non mi sento affatto anziano. Ci arriveremo anche a questo. Quindi direi che questo sistema, diciamo la tecnologia, può fuori delle opportunità per poter vivere. Senta Beghelli, l'hanno definita il giapponese di Monteveglio, che è il paese da cui lei viene, perché lei ha sempre detto che bisogna sfornare un prodotto al mese. Mi racconta una cosa, come nascono i suoi prodotti? Cioè come le vengono le idee? Quando mi viene qualche idea cerco sempre di confrontarmi con le persone normali, per capire se può essere interessante oppure no. Quindi parlo con i miei amici al bar, parlo con altre persone che conosco, e poi se si vede che c'è interesse, allora si procede a fare il prodotto. Ad esempio, adesso stiamo lavorando molto anche sul risparmio energetico e sulle energie rinnovabili. Stiamo producendo un prodotto molto interessante, che è fotovoltaico ad alta concentrazione, che produce il doppio del fotovoltaico tradizionale, che lo metteremo sul mercato fra un mese o due. Senta, secondo lei per l'Italia la miopia sull'innovazione, sulla ricerca, è la grande maledizione? Io credo che è molto importante fare la ricerca, perché se non si fa ricerca non si crea innovazione, se non si crea innovazione non si è più competitivi con i paesi che adesso stanno affrontandosi sul mercato, come la Cina, l'India e tanti altri. Quindi la ricerca crea innovazione, quindi l'innovazione va comunicata, quindi ci vuole la pubblicità per comunicare, altrimenti nessuno sa che esiste. Infatti devo arrivare lì, perché l'altra cosa straordinaria è che lei investe il 15% del fatturato in comunicazione, una cifra enorme. Su questo vuole dare una notizia, cioè che abbiamo scoperto che addirittura il suo marchio è talmente noto che lo usano per la satira politica. E' uscito un pezzo molto divertente sul manifesto di qualche tempo fa, che diceva così, attivate subito il vostro chiama Silvio Beghelli. Con chiama Silvio Beghelli ogni problema è risolvibile in meno di due ore. Una volta attivato il vostro chiama Silvio Beghelli, il premier in persona, chiama l'ufficio pubblico e vi sta creando problemi, assicurando al funzionario di turno che siete, vabbè qui partiva la satira politica, però il dato è che addirittura è un termine così entrato e l'immaginario collettivo che si fa la satira. La diverte questa cosa, le piace? Beh, l'hanno fatta, le ho lette tante di quelle cose, le ho sentite tante, sono simpatiche. Insomma, fa pubblicità anche quello. Fa pubblicità anche quello. Un'ultima cosa, Gian Pietro Beghelli. I suoi figli sono già entrati in azienda. È pronto per la pensione o no, lei? Beh, la pensione è una parola che non esiste nella mia mente, nel senso che, no, a me piace lavorare, fin tanto che la salute mi lascia la possibilità di farlo, io credo che non abbandonerò il posto di lavoro. Quindi pensione non se ne parla? Neanche lontanamente. Anzi, devo rimanere a lavorare, perché così capisco, man mano che siamo andati con l'età, quali sono i problemi, cercherò di fare degli strumenti che aiutino a risolverli. Farà dei prodotti che non si sono realizzati, anche rispetto alle sue esigenze. Grazie, Gian Pietro Beghelli. Grazie a lei. E adesso un interrogativo. La vita si allunga, l'abbiamo detto. Tutto cambia, il panorama cambia. Forse dovranno cambiare anche i tempi del lavoro, come ci diceva Gian Pietro Beghelli, e i tempi della pensione. Vedremo se avremo delle pensioni in grado di tenerci a casa per tutti questi anni, o se invece dovremo rivedere tutto il sistema. Fra pochissimo, dopo la pausa. Bentornati, effetto domino 2020, parlavamo di longevità, parlavamo del fatto che la nostra vita media si allunga sempre di più. Secondo alcuni, ci avviamo a vivere fino ai 120 anni. Conferma, professor Veronesi? E' questa la nostra prospettiva? Sì, non c'è dubbio che stiamo allungando la vita e che 120 anni non sarà la media, però potremo avere molti... Le punte avanzate. Le punte avanzate arriveranno a quell'età. Ecco, ma in questa dimensione di allungamento della vita così abnorme, no? Perché abbiamo detto che mentre per i nostri avi per tantissimi anni era sempre uguale, all'improvviso questa vita ogni 10 anni si allunga di 4-5 anni. Bisogna un po' rivedere le cose. Cioè una persona come lei, per esempio, fosse andata in pensione all'età giusta, tra virgolette, 65 anni, 20 anni fa. Quante cose importanti non avrebbe fatto? Quante vite non avrebbe salvato? E' chiaro che se la vita media si allunga dovremo rivedere le tappe, i tempi di questo nostro percorso vitale. Quindi io penso che in futuro si incomincerà a lavorare un po' più tardi. e si termineremo dopo. Si andrà in pensione non più a 65, ma a 70, 65, 80 anni. Questo è inevitabile. Era mai il veronesi di 20 anni fa o il veronesi di oggi, secondo lei? No, io penso che l'allungamento della vita si arricchisce. Essere vecchi è un grande dono, perché accumuliamo la quantità di esperienza gigantesca. è un paese dove ci sono molte persone anziane è un paese più saggio di tutti i ragazzini, più saggio, più meditativo. Lo pensa anche il professor De Masi questo? Cioè l'idea che un paese di vecchi, tra virgolette, non sia poi un gran danno? Non posso non pensarlo, perché sarei contro me stessa, e quindi è per egoismo. Comunque un paese con più anziani è un paese più pacifico, un paese con meno droga, con meno violenza, quindi ha degli aspetti positivi. Bisogna guardare proprio con fiducia tutto questo. Bisogna tener conto che i novantenni di oggi sono in percentuale pari ai sessantenni di cento anni fa. Quindi abbiamo guadagnato trent'anni, che non è poco. Non è una cosa da poco. Certo, dobbiamo prepararci a questa... Ecco, rivedere un po', dicevamo, i tempi. Per esempio, secondo te, l'età pensionabile è uguale per tutti? C'è ancora senso in un mondo come il nostro? Questo assolutamente no. Ci sono persone che a sessant'anni si sentono molto stanche e vogliono riposare. Ci sono persone che a cento anni sono molto amico di Oscar Di Maier, che è il grande architetto... Grande architetto brasiliano. Di Brasile, ha cento e tre anni, lavora regolarmente e progetta. Quindi non è possibile avere un'età unica in cui tutti sono scartati dal lavoro. Bisogna tener conto poi che questo tipo di approccio alla vecchiaia ci fu quando la maggioranza dei lavori erano di carattere fisico. Manuale. Abbiamo scontato che un minatore, un contadino, a una certa età dovessero riposarsi. Per cui io credo che se c'è qualcosa che va contrattato persona per persona col datore di lavoro è proprio l'età di pensione. Lo vedremo, perché adesso invece parliamo di qual è il sistema oggi, al di là invece di quelle che sono le suggestioni del professor De Masi e vediamo questo complicato e intricato sistema delle pensioni italiane al momento come è organizzato. Vediamo in questa scheda. 142 ogni 100. Questo è il rapporto tra lavoratori e pensionati in Italia, oggi nel 2011. Una proporzione che secondo l'Unione Europea è destinata a ridursi. Nel 2040 scenderemo a 112 lavoratori ogni 100 pensionati. La nostra sarà la media più bassa d'Europa. Come faranno così pochi lavoratori a mantenere così tanti pensionati? La risposta è in una sola parola. Riforma. In 20 anni se ne sono avvicendate tante. Ogni governo ha fatto la sua. Ma nel 2010 arriva una vera svolta. Con il regolamento Sacconi-Tremonti, infatti, l'età pensionabile viene agganciata all'allungamento medio delle speranze di vita. A partire dal 2015 il pensionamento slitterà in avanti di tre mesi ogni tre anni. Una misura rivoluzionaria, unica nel panorama europeo. Esempio. Nel 2020 gli uomini andranno in pensione a 66 anni e 9 mesi e le donne a 61 anni e 9 mesi. Il risparmio previsto da oggi al 2050 è straordinario. 86,9 miliardi di euro. Problema risolto. Ma i giovani? Il vecchio sistema pensionistico retributivo garantisce ai lavoratori una pensione pari a circa l'80% dell'ultimo stipendio. Dal 1996, però, è calata sui giovani la scure del sistema contributivo. La pensione oggi viene calcolata sulla base dei contributi versati. Della più rosa delle ipotesi sarà il 55% dell'ultimo stipendio. Per non parlare di quei giovani che lavorano saltuariamente, i precari. Le proiezioni sono tutt'altro che incoraggianti. Le pensioni dei precari potrebbero non superare il 36% dell'ultima retribuzione. Più che una pensione, un sussidio. Allora ci chiediamo, il peso dell'Italia presente graverà interamente sulle spalle dell'Italia futura? Allora, a questa inquietante domanda e a molte altre risponderà l'uomo delle pensioni, quello che ce le eroga che conosce perfettamente a questo difficile mondo. Antonio Mastrapasco, il presidente dell'Inf. Ben arrivato. Grazie. Presidente, prima di andare avanti una suggestione, perché Domenico De Manzi ha detto una cosa abbastanza importante, ha detto, ma com'è possibile pensare che andiamo tutti in pensione alla stessa età o facciamo i minatori o facciamo gli intellettuali e è uguale. Bisogna che ognuno contratti la sua pensione personalmente. Sembra una prospettiva percorribile questa? Diciamo che questo oggi è già parzialmente così, perché innanzitutto l'età della pensione, adesso ci sta in Parlamento la discussione sui lavori usuranti, quindi sicuramente chi fa lavori dove si usura di più il proprio fisico sarà isolato. potrà andare in pensione in maniera anticipata e poi oggi c'è la possibilità di continuare a lavorare dopo la pensione. Allora, noi dato che questo tema è un tema, come lei sa, molto complicato, l'abbiamo visto dalla scheda, vorremmo con lei isolare cinque numeri, ragionare su questi cinque numeri che secondo noi sono un po' emblematici di cinque situazioni. Le presento il primo, che è il numero 142. Cosa sono 142? Sono i lavoratori attivi che lavorano per ogni cento pensionati, quindi il rapporto tra lavoratori e pensionati, un rapporto importante che peraltro in Italia tende ad abbassarsi, nel senso che la prospettiva ci dice che tra 20 anni saranno 112 e sarà il numero più basso d'Europa. Può reggere un sistema così, ma soprattutto, dato che lei ha sempre detto i nostri conti sono in ordine, addirittura guadagniamo, più che può reggere la domanda è che pensioni dobbiamo aspettarci, Mastra Pasqua? Pensioni da fame? Sono due aspetti. Il sistema può reggere perché la riforma che ha portato il sistema sul contributivo fa sì che ognuno versa nel proprio salvadanaio durante la vita lavorativa, quello che versa è quello che poi avrà di pensione con dei sistemi di valutazione abbastanza complicati che però danno certezze. Il sistema è in equilibrio oggi, anzi, ha degli avanzi finanziari anche abbastanza consistenti e lo sarà sul futuro perché inevitabilmente questo qui consentirà la protezione delle casse dell'Inps. La cosiddetto tasso di sostituzione, ovvero quanto si sostituirà tra lo stipendio e quello che percepirà di pensione. Lei delle cifre le ha date, mentre oggi intorno all'80% arriveremo a 50-55, quindi cambierà un bel po'. Diciamo che innanzitutto col sistema contributivo ognuno può versare per una vita lavorativa più lunga e quindi può avere questo tasso di sostituzione più alto, ma poi soprattutto bisogna cominciare a considerare un altro aspetto, ovvero il secondo pilastro. Fino a ieri col sistema retributivo l'80% negli ultimi dieci anni, ognuno di noi non aveva interesse a sapere cosa aveva messo nel proprio conto corrente previdenziale perché era ininfluente. Pagava pantalone. Tanto pagava l'Inps e quindi pagavamo tutti quanti noi. Oggi c'è il conto corrente della singola persona, uno versa, ogni mese se lo deve controllare, e questo è possibile sul nostro sito, quindi grande, grande innovazione anche di trasparenza e deve vedere che cosa ci sta dentro. Si deve accorgere fin da subito che se comincia a versare anche una piccolissima quota nella previdenza complementare potrà raggiungere e addirittura ci sono delle simulazioni superare quello che era il sistema retributivo. Sa qual è il problema? Che gli stipendi sono bassi. Quando lo stipendio medio è 1200-1300 euro al mese è uno sforzo finanziario molto forte quello di versare alla previdenza complementare e in più si rischia che poi la pensione se è in metà dello stipendio parliamo di pensioni veramente tanto bassi. Rischiamo poi che questo bel panorama che abbiamo tracciato con il professor Veronesi e il professor De Masi alla fine saremmo un bel popolo di anziani fighi e in forma ma poveri. Però così innanzitutto si lavorerà di più e quindi lavorando di più si potranno versare più contributi. Poi c'è il famoso TFR quindi se uno appena comincia a lavorare verso il TFR otterrà praticamente quasi la stessa percentuale del tasso di istituzione che si ottiene oggi. Questo è importante è interessante però quello che io dico sempre che oramai comincia a essere un messaggio che passa ci vuole cultura previdenziale cosa che in Italia manca totalmente perché era una variabile indipendente uno non si doveva interessare quello che succedeva. Il nostro secondo numero è 28 milioni cosa sono? Gli italiani nati dopo il 70 quindi sono quelli considerati in questo paese giovani. Perché gliene parlo? Perché questi signori qui che sono la metà della popolazione italiana sono persone che sono tutti lavoratori attivi andranno tutti in pensione con il contributivo puro come abbiamo parlato prima e spesso e volentieri fanno lavori atipici cioè non sono lavoratori a tempo indeterminato e quindi hanno buchi, pause e vite lavorative a singhiozzo. A quanto ammonterà caro Presidente la loro pensione? Ammonterà quello che sarà il momento nel quale loro andranno in pensione quindi l'età in cui loro raggiungeranno l'età pensionabile a quanto saranno riusciti a versare e a quanto saranno riusciti a versare non solo sulla previdenza obbligatoria ma anche a quella complementare. Questo tema qui è un tema che è molto molto importante e complicato per gli italiani. Veniamo però a un altro un altro numero che sono 7 milioni chi sono i lavoratori che oggi pagano la pensione a più enti diversi cioè ci sono anch'io dentro questo numero io pago la pensione all'Inps come giornalista la pago all'Empals perché faccio televisione la pago all'Inps per altre cose quindi mettere insieme più pensioni cosa capita? La sensazione che abbiamo noi che ci stiamo dentro è che la pensione si perde mille rivoli e alla fine è più povera è così? Assolutamente no per fortuna ci sono state delle leggi anche recenti che consentono due istituti la ricongiunzione e la totalizzazione ricongiunzione significa che io ricongiungo i periodi che ho in varie forme previdenziali pubbliche e private e poi ottengo la pensione e questo mi consente ovviamente di raggiungere la pensione la totalizzazione che totalizza addirittura i contributi che ho però costa un sacco di soldi costa la ricongiunzione nel momento in cui si ottiene una pensione più alta quindi è chiaro che se io usufruisco andando verso una forma previdenziale che è più rica cioè conviene farla? sempre e comunque lì ci sono dei conti o dei calcoli ovviamente da fare è chiaro che se io sto in un fondo che mi dà una pensione di una certa percentuale vado in una che me la dà più alta bisogna pagare questo differenziale ove esiste però c'è l'istituto della totalizzazione che invece è gratuito e quindi questo significa che se anche io spezzetto la vita lavorativa e quindi oggi mi torna tutto? torna tutto ce lo garantisce? nulla va perso va bene quarto numero 86,9 miliardi cosa sono? sono quelli che voi risparmierete con la riforma al regime fino al 2050 un sacco di soldi come li risparmiate esattamente? dunque di solito quando si risparmia sembra che prima c'era qualcosa che non era proprio totalmente funzionava quindi non sono risparmi verso già un virtuosismo ma verso un sistema un po' più generoso questi sono soldi che rimangono nelle tasche dei lavoratori perché nel momento in cui il sistema non risparmia ma eroga pensioni commisurate ai contributi che si pagano vuol dire che danno ancora più certezza ai pensionati quindi li utilizzerete per i futuri pensionati questi soldi sicuramente sono i soldi loro non è che li utilizziamo noi sono i loro soldi ok perfetto ottima precisazione un ultimo numero 7 miliardi sono i contributi versati dagli immigrati che sono il 5% del totale cosa capita fino adesso che gli immigrati versano questi contributi e quasi mai li riprendono perché ancora come diceva lei per i precari non c'è ancora una pratica reggiva perché molti di questi sono arrivati da poco quando cominceranno a riprenderseli indietro il sistema reggerà comunque o faremmo fatica ma io mi permetto una battuta per me i contributi sono di tutti uguali io non farò mai una distinzione tra un contributo di un immigrato e uno di un lavoratore dell'italiano perché sarebbe una distinzione antipatica che non spetta a noi senza distinzioni però i due milioni di immigrati che servono al paese secondo il ministero del welfare che dovrebbero arrivare in Italia per poter tenere in equilibrio la domanda di lavoro e l'offerta per voi sarà una buona notizia? sicuramente sì per l'Italia non per noi per l'Italia va bene presidente la ringraziamo e per il quadro che è più chiaro quello che è certo è che viveremo molto di più perché il sistema dovrà riorganizzarsi su questa base e dovrà tenere presente questa sorta di nuova razza perché non potevamo nemmeno più chiamarli vecchi c'è qualcuno che se ne è già accorto però di questa nuova razza e sono è la pubblicità è il mercato perché il business arriva sempre un pezzetto prima vediamo come grazie di essere stato con noi grazie a tutti grazie vecchio aggettivo singolare maschile per anni questa parola è stata bandita dal linguaggio del marketing la vecchiaia era il grande tabù del mercato dei consumi una categoria che un gergo pubblicitario veniva considerata poco spendibile ma la riscossa è già iniziata nel 2020 nel mondo sviluppato ci saranno 241 milioni di anziani in Italia cresceranno da 12 a 14 milioni il numero di consumatori over 65 crescerà del 13% già oggi sono loro il target più ambito dalla pubblicità ci tocca insomma riaprire il dizionario vecchio che si trova nell'ultimo periodo della vita naturale eh già ma la vita è sempre più lunga nel frattempo gli anziani consumano sempre di più secondo l'istituto di ricerca Nielsen una famiglia su quattro ha un over 65 come responsabile degli acquisti vecchio di un'altra epoca già oggi un italiano over 50 su 4 si collega quotidianamente a internet tra questi il 75% lo usa per scambiarsi mail il 54% per avere informazioni su prodotti e servizi e il 66% per apprendere la tecnologia senior friendly come la piattaforma informatica Eldi sta spazzando via i residui del vecchio gap culturale vecchio usato malandato oggi i beni più acquistati dagli ultra 55 anni sono prodotti per la cura della persona ci sono gli accessori montascale poltrone levabili sedie da doccia ma anche la cosmesi creme antirughi antiossidanti fialette per capelli anticaduta e naturalmente la chirurgia plastica aumentano gli anziani che frequentano corsi di yoga pilates ginnastica dolce e anche quelli che si dedicano agli sport estremi vecchio superato 2011 la campagna forever love dello stilista tom ford ha come protagonista una coppia di anziani sono sempre più numerosi i testimonial che sembrano aver vinto la battaglia contro il tempo katrine dener sharon stone john travolta raffaella carrà mihail gorbaciov jane fonda sean conner insomma se il secolo scorso aveva inventato due grandi categorie di consumatori l'adolescente e il single il nuovo millennio inizia sotto il segno degli over 65 insomma professore il mercato come sempre capisce prima degli altri no? c'è una roba razza che è molto appetibile dal punto di vista appunto del profitto non c'è dubbio intanto perché abbiamo detto che dura 20 anni l'anziano in questo tipo di società non produce più ma tutti speriamo che sia utilizzato anche per la produzione ma seppure non produce sicuramente consuma essendo consumatore quindi interessa il mercato che sta facendo di tutto per creare anche prodotti ad hoc che prima non esistevano per rendere più agivole questa fase della vita per renderla più piacevole e per rendere più piacevole l'anziano ai giovani perché altrimenti non si frequentano più di estetica che tu se vivi di più devi avere alcun aspetto noi dedicheremo un'intera puntata all'estetica ma l'estetica è fondamentale allora l'abbiamo capito è nata una nuova razza ma non ha ancora un nome come chiamarli? lo scopriremo assieme dopo la pausa pubblicitaria ben tornati ad Effetto Domino abbiamo parlato di longevità abbiamo parlato di come cambieranno le nostre vite di questa prospettiva di vita che si allunga e dunque che dovrà portare con sé una rivoluzione linguistica cioè come chiamare questa nuova specie questa nuova razza che saremmo tutti noi fra qualche anno vediamolo in questa filmatura che abbiamo raccolto un po' di voci sul tema raghezzo di una certa età cronologicamente datato è veramente brutto anziano fa schifo giovanile peggio vecchi va benissimo così a bruciapelo la domanda mi fa venire in mente una bellissima poesia di Edoardo dove non ha paura di definire i vecchi vecchiaconi ci saranno dei novantenni con pensioni alte che fanno la fitness le vacanze tropiche le bermuda e dei 50-60 anni ancora con la paghetta data dal nonno novantenni e quindi sono i turbononni non vorrei arrivare a 80 anni e chiamarmi post giovane o neoadolescente insomma mi va bene essere vecchio a 80 anni mi va bene arrivare a 80 anni e poi chiamatemi pure vecchio però devi farmi pensare per trovare un neurologismo perché non è facile mi dispiace vecchi io ho 56 anni e dall'età di 50 anni cioè da 6 anni mi considero anagraficamente vecchio io direi mezza età o anche anziano io più che preoccuparmi di trovare una definizione per gli anziani le pantere grigie mi preoccuperei di trovare una definizione per i giovani perché mi sembrano piuttosto direttanti allo sbaraglio quelli che alla fine dopo aver lavorato se la godono allora come come le suona questa parola vecchio considera come molti dei nostri intervistati dicono che è una parola che ancora dà autorevolezza che ancora contiene una forte dignità come invece andrebbe cambiata perché effettivamente non si può parlare più di vecchi ma io mi definisco vecchio ma sono anche lieto di dirlo orgogliosamente sì mi sembra una bellissima parola anche forte il vecchio non è l'anziano l'anziano è proprio qualcuno è una forma decadente il vecchio è lui stesso ha una sua personalità il vecchio quindi non sente il bisogno di una nuova parola lei no assolutamente professor De Masi ma io credo che si è vecchi gli ultimi due anni della vita quando si moriva a 50 anni si era vecchio a 48 adesso si è vecchio a 78 più o meno c'è da definire quell'età che va tra i 50 e i 75 anni a cui non eravamo abituati e che quindi non abbiamo parola per dirlo lanciamo un appello sul nostro sito se volete tutti voi che è ricordo www.effettodomino.la7.it fateci arrivare tra i tanti commenti tra le tante domande qualche bel suggerimento come chiamare la nuova razza quelli che stanno tra i 50 e i 75 anni esatto questa fascia generazionale allora io questa sera l'ho detto all'inizio ho voluto in studio con noi un pubblico di giovani di persone sotto i 35 anni proprio perché penso che sono proprio loro che dovranno poi gestire questa nuova prospettiva di vita allora vi chiederei a lei professor Veronesi per chiudere quali sono i consigli diciamo i tre consigli che lei darebbe a un giovane che ha 30 anni oggi per come arrivare bene e come godersi questo nuovo pezzo di vita che ci si è schiuso davanti un consiglio è quello di vivere la vita secondo le proprie attitudini di essere se stessi come si dice un po' comunemente il secondo è quello di guardare al futuro con ottimismo io penso che l'ottimismo sia un grande aiuto per crescere bene e il terzo di amare molto l'amore è una grande forza per l'umanità e chi ama vive felice grazie grazie di questo bel consiglio Mimmo De Masi hai anche tu qualche suggerimento per la lunga vita? certo tutti gli studi dicono che vive più a lungo chi ha più relazioni sociali e più cultura quindi auguro a loro di avere tanto le donne vivono di più degli uomini forse che sono più capaci di tracciare relazioni in Italia 78 anni maschi 84 le donne in Italia ci sono 800 mila vedovi e 3 milioni e mezzo di vedove e questo è significativo chissà se noi amiamo di più professor Veronesi può essere? sicuramente allora io ringrazio Umberto Veronesi ringrazio Mimmo De Masi e abbiamo parlato per l'intera puntata di questa nuova razza di questa nuova specie che io vorrei guardare con occhi nuovi con occhi diversi con gli occhi di un grande artista il fotografo Pino Settanni vi lascio con le sue fotografie e vi do appuntamento qui con noi giovedì prossimo alla stessa ora buonanotte a buonanotte a buonanotte Grazie a tutti.